Antonio Guerra, per tutti Tonino, è stato un grande poeta, scrittore e sceneggiatore romagnolo. Nato il 16 marzo del 1920 a Sant'Arcangelo di Romagna, nell'arco della sua vita si è circondato di grandi registi e anche di importanti case editrici. Dopo il liceo, decise di proseguire gli studi e si iscrisse all'Università di Urbino, ma lo scoppio della guerra frenò i suoi buoni propositi. Fu arrestato e deportato in un campo di internamento a Troisdorf, dove si avvicinò sempre più alla poesia, intrattenendo i suoi compagni di prigionia con i sonetti romagnoli di Olindo Guerrini. Terminato il conflitto mondiale, Tonino Guerra tornò a casa, era il 1945, e dopo la laurea pubblicò a sue spese la sua prima raccolta, intitolata Iscaraboc, con la prefazione firmata da Carlo Bo, suo docente universitario. Dopo aver partecipato al premio letterario cattolica, dove vinse il premio Emilia, Guerrini pubblicò il suo primo romanzo breve, intitolato La storia di Fortunato. Molte sue opere furono tradotte anche in inglese. Trasferitosi poi a Roma, il poeta si dedicò anche alla sceneggiatura, lavorò a contatto con grandi registi e ottenne una candidatura agli Oscar per il film Blow Up del 1967. Donato la sua anima al cinema, Guerra negli anni 70 scrisse ben 20 film e più di 10 libri. La prima sceneggiatura che firmò con Fellini fu Amar Cord del 1974, una collaborazione che tornava anche anni dopo, nel 1986, con Ginger e Fred. Per un periodo visse anche in Russia, dove entrò in contatto con il regista Andrei Tarkovsky, per il quale scrisse Nostalghia e collaborò con Rosi alla Carmene e con i fratelli Taviani. L'ultima sceneggiatura che ha firmato è stata La polvere del tempo di Theo Angelopoulos del 2008, mentre l'ultimo romanzo pubblicato risale al 2012, anno della sua morte, e si intitola La casa dei mandorli. Morì quell'anno durante la giornata mondiale della poesia istituita dall'UNESCO il 21 marzo.